E proseguiamo con il premio Giovana Prepa dell'anno 2017 che va alla sezione Canottaggio. A ritirare il premio saranno Francesco Morinari e Matteo Connelli. Attendiamo anche in questo caso l'arrivo di Francesco e Matteo sul panico per leggere insieme la motivazione del premio. Francesco Morinari e Matteo Connelli, benvenuti, buonasera e complimenti. Grazie mille. Non è finita qui, era solo il tempo di girare il foglio perché il curriculum dei ragazzi è davvero lungo perché hanno anche esordito con ottimi risultati nella nazionale junova italiana gareggiando sempre insieme i campionati europei che si sono disputati a maggio a Creta in Germania dove hanno raggiunto ottimi risultati. Le loro strade in maglia azzurra si sono poi divise perché Francesco è stato convocato per disputare i campionati del mondo juniors in Lituania mentre Matteo, che è al primo anno di categoria, a fine luglio ha disputato in Belgio la Cote degli Genes conquistando una medaglia di argento e una di bronzo. complimenti allora a Matteo Connelli e Francesco Morinari Grazie e buon venuto per il progetto dei vostri successi sportivi.